Noi italiani siamo all'ultimo posto in Europa per la comprensione di un testo scritto. Cioè vuol dire che uno legge e non capisce. C'è un analfabetismo di ritorno, aiutato anche dall'informatica che riduce il linguaggio a 50 parole e dopo quelle non ne sai più. Solo che se ne hai, hai poche parole in bocca. Non è che hai tanti pensieri in testa, perché i pensieri sono proporzionati alle parole che hai. Io non posso pensare una cosa di cui non ho la parola. E se ho poche parole penso poco. E quando un popolo pensa poco e incolto come siamo noi italiani, ignoranti siamo, veramente ignoranti, basta pensare che il giornale più diffuso è la Gazzetta dello Sport, detto tutto.